Gli arrangiamenti oramai con Salvo Guglielmino sono diventati all'ordine del giorno perché c'è questa collaborazione di frequente, noi abbiamo già fatto altri lavori e l'Orfeo diciamo è una piccola parte perché sono solamente sette brani che lui ha pensato esplicitamente, rivolti, accompagnati da un quartetto d'archi dei giovani dell'Istituto Musica Rebellini che sottolineano gli stati d'animo principali del dramma di Orfeo e appunto tutte le parole sono rimarcate, ho cercato di rimarcarle con degli accompagnamenti degli arrangiamenti attinenti alla parola, al testo è un arduo perché dell'Orfeo abbiamo tantissimi eminenti esempi da Monteverdi a Glucco, quindi è sempre un'impresa, è difficile rimettere in scena un mito così importante però ecco, Guglielmino sicuramente ha dato una sua impronta personale che ho cercato di sostenere Orfeo è una figura per noi tutti sacra e mi fa piacere che ci siano ancora artisti come Salvatore il musicismo di Orfeo e alla sua storia L'Orfeo è un recital teatrale musicale, spesso come autore mi faccio aiutare dal compositore Salvatore Guglielmino quindi la musica sicuramente attraverso la musica, la prosa, mischiando tutto sicuramente si può arrivare meglio all'anima del pubblico presente quindi Orfeo è un mito che in qualche modo mi è, l'ho sempre sentito vicino perché io l'ho reputato il primo musicista, il primo cantautore perché scriveva i poemi, li cantava, scriveva le musiche quindi se non era un cantautore lui ditemi che può e poi il suo dramma d'amore con Euridice mi ha colpito molto perché in realtà lui con la sua musica quindi anche questo è un messaggio importante, la musica che ammalia, la musica in qualche modo ci libera l'anima ci addolcisce l'anima, quindi lui attraverso la sua musica riusciva a fare di tutto addirittura aiutò gli argonauti a vincere una battaglia riuscì ad entrare nell'oltretomba solo attraverso la musica è un'oltretomba dove i vivi non potevano entrare e i morti non potevano uscire ma lui attraverso la musica, quindi la potenza della musica, questa cosa mi ha sempre affascinato